Atto vandalico si è verificato nella notte della vigilia di Pasqua a Calcinelli di Saltara, dove alcuni ignoti hanno prelevato la statuetta della Madonna dell'edicola posizionata nell'incrocio tra le vie in Girola, Belvedere e Monte Arduino, gettandola a terra poi nei pressi della fontana in piazza Calcinelli. È stato il paroco Don Giuseppe Monaco a raccogliere i pezzi della statuetta e darne notizia ai fedeli durante l'omiglia pasquale. Il fatto ha scatenato un dibattito acceso sui social network dove molti cittadini hanno condannato il gesto e l'atto vandalico. Tra i vari commenti postati il più preoccupante risulta quello di una cittadina del comune di Colli al Metauro, nel quale ha scritto che episodi di questo genere si sono verificati anche lo scorso anno e che però in quell'occasione è stata spaccata la Madonna di Loreto. Sulla questione è intervenuto anche un altro cittadino in veste di artista, nel quale ha proposto la riparazione dell'immagine della Madonnina restituendo il valore devozionale ed affettivo. Un atto vandalico verso una figura religiosa ovviamente in una notte proprio tipica per quel che riguarda il cristianesimo mi lascia un pochino perplesso e preoccupato e proprio per questo quindi io voglio sperare che si possa giungere a ricostruire diciamo questo fatto e individuare i responsabili. Noi abbiamo messo a disposizione dei carabinieri, delle camere che sono lì a semaforo di Calcinelli per vedere chi è andato e venuto in quegli orari, le telecamere della piazza. Ecco perché ci terrei particolarmente che venissero diciamo scoperti i responsabili? Intanto per fare giustizia ma più che per questo per capire le radici del gesto, il perché è stato fatto, se è uno stupido atto vandalico oppure se è un qualcosa di più inquietante. Ecco almeno avere una risposta su questa io sarei già di fatto abbastanza soddisfatto.